Musica Ben ritrovati a questa nuova edizione del Tg di Venezia. Da lunedì il Veneto torna in fascia arancione a causa della velocità con cui il virus si sta diffondendo. L'incidenza, ossia il numero di persone positive al Covid-19 sul totale dei tamponi effettuati, è raddoppiata da 1,65% a 3,44% e i contagi hanno ripreso a salire. Verranno pertanto adottate misure più rigorose di vieto di spostamento tra comuni, se non per motivi di lavoro, salute o per tornare alla propria residenza. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 è di vieto di uscire dalla regione. Chiudono bar e ristoranti, pasticcerie e gelaterie ai quali è consentito solo l'asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio. Negozi e centri commerciali aperti, ma durante i giorni festivi e prefestivi nei centri commerciali possono lavorare solo farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai, alimentari e librerie. Nuovamente sospesi musei, mostre e altri luoghi di cultura, tra nelle biblioteche con accesso su prenotazione. La mascherina non è un'option, la si usa, spesso la si usa male, il naso fuori dalla mascherina è come non avere la mascherina. Siamo davanti a una variante, a una mutazione del virus, speriamo sia l'ultimo passaggio, dopo è finita lì, che si dice dalla letteratura scientifica dal 43 al 100% più contagioso. Sul fronte ai vaccini il Veneto ha somministrato quasi 393 mila dosi anti-covid, sulle 563 mila, 140 dosi ricevute, il 72,3%. La novità riguarda il numero di dosi che si possono estrarre da ogni fiala Pfizer, come annunciato il presidente Luca Zaia, da sei dosi a sette e non con gli avanzi, ma con una quantità piena utilizzando siringhe di precisione. La notizia, voi sapete quanto noi abbiamo predicato, invocato la possibilità di, che si valuti, come del resto da indirizzo ai CDC, la vaccinazione per AstraZeneca, no ai CDC, come sta accadendo in altri paesi, ad esempio la Germania o la Francia, la vaccinazione per gli over 65 con AstraZeneca. Quindi il ministro ha attivato anche questa misura, se questo accadrà avremmo una possibilità ancora in più di vaccinare un target d'età che oggi è escluso, perché noi dei 65 in su dobbiamo vaccinare con Moderna o AstraZeneca o Pfizer. Capite che, essendo peraltro due vaccini che non è che ce n'è proprio da buttare via, se ci arriva AstraZeneca, che è molto più, diciamo, importante come invio, riusciamo ancora di più ad aggradire questo target. Questa è una bella notizia. E c'è qualche, uno di quelli che fanno le iniezioni del Pfizer, del vaccino, che mi ha dimostrato che, essendo un po' attenti al prelievo, si riescono a fare sette dosi. Quindi siamo partiti da cinque. Siamo arrivati alla sesta, che ormai in teoria la fanno tutti, anche se qualcuno vorrebbe fare raffinato, perché c'è sempre la zecca Garbugli, che dice, ma c'è scritto, c'è sentito, dentro lì il vaccino è tutto uguale, dentro una boccetta. E se se ne possono far sette, in Veneto se ne fanno sette. Il Covid-19 si sta diffondendo nelle scuole del vento orientale, in particolare nelle zone del Porto Gruarese. Il timore è che a circolare, vista l'impegnata dei contagi, sia la variante inglese. Sul fronte scolastico, al fine di contrastare tale situazione, sono stati modificati i protocolli anti-Covid in caso di positività. Per studenti ed insegnanti, la quarantena torna ai 14 giorni e si conclude con il tampone molecolare negativo. Si chiude la scuola in presenza di un cluster, ossia con più classi collegate positive. Allora, l'aumento del numero dei casi, insomma, lo vediamo tutti i giorni. Non è un aumento che è, insomma, considerevolissimo, però il rapido incremento, cioè il fatto che nell'arco di poco tempo abbiamo avuto questo aumento di positività, ci ha portato ad un aumento dell'R con T. Quindi l'R con T ha superato l'1, è aumentata l'incidenza e questo ci porta in uno scenario epidemiologico differente. In questo momento abbiamo però da considerare, oltre, diciamo, all'aumento del numero dei casi, anche il quanto pesa nell'aumento del numero dei casi la presenza delle varianti. Perché sapete che le varianti, è stato detto, lo diciamo, ogni giorno, è legato soprattutto ad una maggiore contagiosità, quindi potrebbe giustificare questa facilità, questa maggiore facilità di diffusione del virus. Allora noi che cosa abbiamo, diciamo, stiamo portando avanti? Vogliamo unificare i due percorsi e quindi, in un principio che definirei, insomma, di maggiore precauzione, applicare la stessa metodologia che noi seguiamo per i casi con variante a tutti i casi che si vengono a determinare, indipendentemente che siano da variante o meno. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, al fine di evitare gli assembramenti e spiacevoli episodi, ha firmato un'ordinanza che vieta fino a domani e in tutto il territorio della Municipalità di Venezia l'acquisto di alcolici per asporto dalle 15 alle 8 del mattino successivo. La multa prevista è di 400 euro. L'ordinanza contiene anche la possibilità di limitare l'accesso a strade e piazze dei centri cittadini nella fascia oraria tra le 15 e le 19. Il piazzale dell'ospedale di Iesol ha un nuovo look, più posti auto, nuova pavimentazione, nuova viabilità e uno sguardo al futuro, considerato che è fornito di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il tutto con un investimento di 201 mila euro. A presentare la novità, il direttore generale Mauro Filippi, assieme all'assessore regionale Francesco Calzavara, al sindaco Valerio Zoggia e al personale medico e sanitario. In cinque mesi di lavori, il piazzale di 2.900 metri quadrati, dedicato in gran parte alla sosta dei veicoli, sia per l'utenza e sia per il personale dell'US4, è stato completamente rinnovato. È fondamentale aver potuto riqualificare questo accesso, quindi sistemando la viabilità, rifacendo anche tutta la parte, la ripiantumazione del verde e soprattutto l'area a parcheggi. Un progetto che è partito col dottor Bramezza e che oggi consegniamo alla città di Jesolo e all'ospedale. Tra l'altro, con questo intervento, non solo abbiamo riordinato la parte parcheggi, sono 50, ma abbiamo anche individuato l'area a parcheggio per disabili. C'è una parte per le auto elettriche ricaricabili, quindi un approccio anche green all'intervento, e una parte dei parcheggi per le mamme, più ovviamente l'area riservata alle biciclette. Ecco, ma soprattutto una parte interessante è che di fronte all'ospedale non ci sono le macchine posteggiate, quindi le persone possono anche sostare qui senza alcun impedimento, possono anche i pazienti, quando l'ospedale di Jesolo riprenderà la sua normalità, fare anche due passi all'esterno. Sempre a Jesolo, a causa dell'aumento dei contagi, il Covid Hospital di Jesolo ha aperto un nuovo reparto di malattie infettive. Questa decisione, ha riferito il direttore della funzione ospedaliera dell'US4, Maria Caterina De Marco, deriva dall'aumento di pazienti che si presentano in pronto soccorso e che si necessitano di ricovero. La Giunta Comunale ha dato il via Libra alla realizzazione del progetto della copertura di due cavedi attigui di Ca' Foscari e di Ca' Giustinian di circa 74 metri quadrati di superficie e la realizzazione di due soppalchi di complessivi 44 metri quadrati ai piani primo e secondo del cavedio di Ca' Foscari. Tali spazi saranno destinati a funzioni di socialità per il personale dell'Università. Si tratta di un investimento interamente a carico dell'Università di 150 mila euro, commentano De Martin e l'assessore all'Università Paola Mar, che consentirà all'Ateneo di ampliare gli spazi all'interno della sede senza modificare le strutture esterne e quindi non andando ad impattare con la città. Giovedì pomeriggio alla Gazera Nadia Sbroggiò, residente a Marcon, si è sentita male mentre stava attraversando a piedi la strada. Immediata l'ha chiamata al suo, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. La giovane mamma di 37 anni è deceduta nell'immediato. Sembra che la morte sia riconducibile a cause naturali e dai primi rilievi si presume che all'origine ci sia una patologia congenita risultata fatale. Lunedì 8 marzo alle 18, nella giornata internazionale dei diritti della donna, la direttrice della collezione Peggy Guggenheim di Venezia, Carol Vail, accompagnerà virtualmente il pubblico nelle sale di Palazzo Venier dei Leoni alla scoperta delle opere collezionate dalla nonna mecenate Peggy. La visita durerà circa 20 minuti e si svolgerà sul canale YouTube del Museo Guggenheim di Venezia. Dopo un breve scorso sulla vita della intreprendente, luggimirante e mecenate, il pubblico potrà passeggiare nelle sale del museo e conoscere i capolavori della collezione. Tra tutti ricordiamo le opere di Miró, Picasso e Severini. Con questa notizia è tutto, io vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Grazie.